Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Colpo al clan di Trabbia, i carabinieri hanno arrestato 19 persone per diversi reati, fra cui associazioni mafiose ed estorsioni e danni di imprenditori e commercianti della zona. Anche la polizia è impegnata in un blitz nel Palermitano, che ha portato all'arresto di otto componenti delle famiglie mafiose del mandamento di Brancaccio, estorsioni spaccia alla base degli affari del clan. La guardia di finanza ha arrestato un corriere di droga a San Gregorio nel Catanese, l'uomo è stato trovato in possesso di 4 kg di cocaina. Non ce l'ha fatta Agatino Botta, il 93enne investito da un'autopirata in Corsa Italia a Catania, l'uomo non è sopravvissuto ai traumi riportati, in corso le indagini per individuare il responsabile. Celebrati i 3.000 trapianti dall'ISMET di Palermo, il presidente Schifani durante l'evento ha sottolineato l'impegno del governo per migliorare la qualità del sistema sanitario regionale. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19.30. Arrivederci!